Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, è bello stare di nuovo qua su YouTube, qua a 16 nonni, quindi mi rivedo un attimo, c'è un po' più di respiro, posso occupare più spazio, posso allargarmi. Allora, oggi parliamo di Cluster Set di Resposo, una tecnica di intensità che cerchiamo di descrivere al meglio. Allora, innanzitutto, passiamo subito all'azione. Cluster Set, che cos'è? È una famiglia di tecniche, ossia il concetto è quello di dividere la propria serie in diversi cluster, che sarebbero dei grappoli di ripetizione. Quindi sostanzialmente cosa posso dire? Invece di fare 16 ripetizioni in una serie, farò 4 cluster da 4, quindi 4 per 4 fa 16, farò 4, poi 4, poi 4, sono 4 diversi cluster da 4 e sono 16 ripetizioni totali, ma l'ho divisa. Perché questo? Qual è il vantaggio principale? Quello che ovviamente rispetto a una serie da 16 in cui dirigerò un 16 RM, andrò ad utilizzare un carico più elevato, quindi per esempio un 8 RM, non 10 RM in questo caso, 4 per 4 normalmente si fa più o meno con un 8-10 RM, prendendomi 15-20 secondi di recupero, e quindi avrò utilizzato un carico maggiore, e poi vedremo quelli che sono i vantaggi da un punto di vista di Effective Reps. Questo è più o meno il concetto, questi sono i cluster set. Ovviamente potete capire che l'impostazione di un cluster set, posso fare di tutto, perché posso fare quanti cluster voglio, possono essere 4 cluster, 3 cluster, come per esempio nel DC Training ci sono 3 cluster, posso fare 20 cluster, 10 cluster, 5 cluster, dipende, posso veramente fare quello che voglio in base allo scopo specifico. Posso poi fare quante ripetizioni voglio nei cluster, alcune volte sono settate, quindi per esempio in questo caso 4 cluster da 4, oppure il DC Training prevede 3 cluster, accedimento tutte e 3, quindi io semplicemente faccio quante più ripetizioni possibili. In questo caso sono libere, però logicamente il numero di ripetizioni può variare, può essere lo stesso numero di rep o diversi numeri di reps. E ovviamente l'altra cosa è il tempo di recupero. Quindi posso andare a variare il mio tempo di recupero, quindi fare dei cluster con 10 secondi di recupero, con 15, con 20, con 30, con 45, eccetera. Quando iniziamo ad avere dei margini di recupero, dei tempisti di recupero un po' più alte, quindi per esempio ho un, non so, un 45 secondi di recupero, 60 secondi di recupero. La domanda che viene è quando è che posso smettere di definirli dei cluster e posso iniziare a chiamarla una serie? Cioè faccio due cluster con 60 secondi di recupero, sono due cluster o sono due serie allenanti differenti? E questa è una bella domanda e vedremo in un attimo come capirlo, anche se poi è un discorso più che altro terminologico, realmente non ci interessa granché. Ora, qual è il discorso principale? Come posso andare a variare strutturare? Innanzitutto la prima cosa che va detta è che non ci sono differenze super sostanziali, cioè tra fare 7 cluster da 7 o 7 cluster da 8 o 6 cluster da 7 o 6 cluster da 8, non è che andiamo a lavorare su stimoli completamente differenti. Gli stimoli sono bene o male quelli, ok? Si lavora sempre in questo caso specifico, per esempio sul metabolico, in base al tempo di recupero, però ecco, non facciamo che basta cambiare una ripetizione e cambia il mondo. Anche delle metodiche, che poi alla fine sono i cluster set come l'FST7 di Rambod, no? L'FST7, che sono 7 serie, ma in realtà sono più 7 cluster perché il recupero è molto basso, accedimento più o meno 10-12 reps, ecco, non è che quel 7 è un numero magico, per cui effettivamente facendo le 7 serie posso arrivare a vincere i titoli di Olimpia, come Philips, come Cutler, come Bumstead, come Lansford, come Edith, ma quanti ne ha vinti Rambod, per cui non è che quel 7 è il numero magico. Però il vantaggio di andare a definire dei numeri precisi è quello di dare uno schema e l'importanza dello schema è il fatto che io posso avere un qualcosa su cui progredire. Quindi io se ho 7 serie accedimento, io ho un numero preciso di serie su cui voglio progredire, progredendo diminuendo il recupero, progredendo aumentando le ripetizioni, progredendo in qualsiasi modo possibile. Però sostanzialmente io devo creare uno schema di progressione. Gli schemi in generale sono utilizzati soprattutto per avere una base su cui progredire. Quindi questa è l'importanza di avere dei numeri fissati, però non si pensi che tra un FST7 e un 8x8 di gironda ci sia un mondo di differenza. Bene o male lavoriamo su pattern molto molto simili. Ora, per capire veramente il senso del cluster set, bisogna capire il contesto in cui dovrebbe essere utilizzato. Partiamo dall'assunto che nel grosso della carriera di un bodybuilder, almeno per i primi anni, non si dovrebbe necessariamente ricorrere a queste tecniche. Perché questo? Perché il grosso deve essere costruito su basi di forza con straight set, quindi serie semplici, diretti, proprio straight vuol dire dritto, diretto, semplice. Quindi lo straight set è una serie da 8, boom, 0, 1, 2, cioè no, 0 ripetizioni no però, 1, 2, 3, fino a 8 ripetizioni, le faccio tutto quanto, ho fatto 8 reps, ecco questo è il mio straight set. Semplice, porto a casa eccetera. Ecco il grosso che dobbiamo iniziare sono gli straight set. Che cosa succede? Io quando ho un atleta neofita o intermedio, io ho un bel margine di aumento di volume, perché? Perché non caricherà così tanto a livello proprio di carico, anche la capacità di esprimere effort non è così importante, quindi se ha un soggetto, un neofita o intermedio, quando eravate neofiti o intermedio, se lo siete adesso, vedete che posso fare tre serie e farne quattro, non è che vi cambia il mondo, cioè avete comunque un buon margine di recupero, riuscite a recuperare, riuscite ad adattarvi, e quindi in questo senso aumentare le serie, arrivare ad allenamenti che sono i volume training, quindi tutta quella famiglia di metodi di allenamento che si basano su volumi elevati, è sicuramente conveniente. Nel momento in cui l'atleta inizia a diventare avanzato, quindi nel momento in cui io mi trovo davanti a un avanzato su cui lavorare, che cosa devo tenere in considerazione? che è questo, mi carica tanto, veramente, veramente tanto, un 8RM su un avanzato sono carichi che sono veramente, veramente importanti, un 8RM su una pressa per un avanzato vuol dire che io stacco e inizio a tremare per quanto pesa, poi faccio 8 ripetizioni, ma quando stacco c'è un tremolio perché c'è un instabilità del, in generale, del sistema, del stabilizzatorio per poter tenere il carico. Quindi devo considerare che se io vado a aggiungere una serie, questo mi comporta un costo di fatica molto, molto importante. La fatica inizia a essere gradualmente il limiting factor, il collo di bottiglia per i progressi di un atleta. Cioè magari riesco a stimolare tanto, ma l'atleta semplicemente non mi recupera a un certo punto. Questo è il motivo per cui gli avanzati tendenzialmente si approcciano a approcci di lavoro che sono un po' più a volume basso, molta intensità, molta ricerca di tecniche, eccetera. Anche quando vedete degli atleti che si allenano con un volume training, come Cutler, in realtà il modo di allenamento di Cutler era semplicemente un top set fatto da 4 cluster, perché lui faceva tutte le serie in buffer, ma in realtà perché? Perché erano dei cluster con pochissimo recupero, con una conclusione di un cedimento finale sull'ultima serie. Quindi lui dice non mi allenavo sempre in cedimento, però in realtà si allenava sempre a cedimento nella serie. Quello che è che non erano serie, erano cluster, perché il recupero era incompleto. E di questo poi andremo a parlare. Però fatto sta che sono differenze, come vedete, terminologiche in questo caso. Però fatto sta che a un certo punto l'atleta deve far fronte a quella che è la sua fatica. La fatica poi è un concetto molto complesso, perché ci sono molte tipologie di fatica. Quindi adesso raccogliamo tutto insieme, perché c'è una fatica del CNS, del Supra Spinal CNS, una fatica dell'accumulo di ionicalcio, una fatica a livello di prettamente danno muscolare, di danno neurale. Quindi è molto molto complesso il discorso di fatica, poi c'è ovviamente l'utilizzo dei substrati che devono essere recuperati, una fatica di breve termine che è la resintesi di ATP, quindi capite è molto complesso. Però teniamo conto il termine fatica in generale. Quindi che cosa succede? Che immaginiamo che io ho una base di volume su cui l'atleta sta lavorando bene, un atleta avanzato, io devo aggiungere un qualcosa. Quello di cui mi devo occupare è cercare di aggiungere quelle che sono delle ripetizioni che stimolano ma impattano il meno possibile sulla fatica. Ed è difficile. Quali sono queste ripetizioni? Beh, noi in realtà lo sappiamo, se avete seguito questo canale e mi seguite, sapete bene che all'interno di una serie abbiamo le prime ripetizioni, che sono delle ripetizioni di accumulo di fatica, che non danno uno stimolo di adattamento, e le ultime ripetizioni che sono le effective reps, che hanno un andamento esponenziale in termini di stimolo, quindi che cosa vuol dire? Che l'ultima ripetizione è super stimolante rispetto alla penultima, rispetto alla terz'ultima, cioè ogni ripetizione è sempre più stimolante, l'andamento dello stimolo è esponenziale. Quindi io più sto vicino al cedimento, più queste ripetizioni sono denominate effective, che sarebbe efficaci, stimolanti, che mi danno ipertrofia. Quindi io posso dividere la mia serie, per farla super semplice, in delle prime ripetizioni di accumulo di fatica e delle altre ripetizioni che sono effective reps, stimolanti finali. Allora io che cosa faccio? Invece di aggiungere una serie in più, immaginiamo ho fatto una serie da otto, cedimento. Invece di aggiungere una serie in più, io sfrutto la fatica che ho accumulato nella prima serie, quindi sono affaticato, e recupero poco, tipo 30 secondi. E poi faccio altre 3-4 ripetizioni che mi escono. Queste 3-4 ripetizioni saranno da subito le ripetizioni vicino al cedimento di accumulo di fatica. Quindi io vado a togliere quella prima parte di serie che avrei in più, che sono ripetizioni che servono solo a creare fatica, e non sono stimolanti, e lavoro soltanto sulle effective reps, sulle ultime. Lo posso sentire perché? Perché appena parto sento che il movimento è rallentato, e questo rapporto tra tentativo di contrazione muscolare e velocità di tempo di contrazione muscolare è quello che indica quelle che sono effettivamente le effective reps. Ora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che vado a recuperare, il discorso è che io vado a utilizzare lo stesso carico, quindi anche per tutte le persone, a differenza del drop set si utilizza lo stesso carico nel respose, il discorso è, utilizzando lo stesso carico, io sono sicuro anche su atleti che non caricano tanto, di avere una massima attività, attivazione delle unità motorie, anche quella ad alta soglia, anche se il basso recupero già diminuisce la soglia di attivazione delle unità motorie, cioè il fatto di essere vicino al cedimento già di per sé porta un'attivazione delle unità motorie, tutti si impallano con il rapporto tra attivazione delle unità motorie e carico utilizzato, però è un rapporto che da una parte ha poco senso nell'avanzato perché è un rapporto che si basa sul carico inteso come newton, quindi un valore assoluto non relativo, quindi l'avanzato già di per sé, il suo 20RM è probabilmente il massimale che hanno i soggetti che sono stati utilizzati per testare queste cose negli studi scientifici, quindi anche se mi fa un 20RM già sta attivando tutto quanto, però soprattutto la soglia di attivazione delle unità motorie si abbassa quando si ha un aumento di fatica, quindi quando le ripetizioni in fase concentrica sono involontariamente lente, e quindi nel momento in cui stiamo facendo effective reps, l'attivazione delle unità motorie, come anche da un punto di vista di carico la firing rates, sono assolutamente inalterate, perché ricordiamo che stiamo parlando di atleti avanzati, quindi logicamente è un'ofida che cosa succede? Che una volta che fa non ha quella velocità di recupero dell'ATP, di resintesi dell'ATP, non è allenato nella sua capacità di recupero, che è una cosa che deve essere allenata, e quindi magari riposa 30 secondi e poi non fa neanche una ripetizione, non ci riesce, oppure la forma viene compromessa, e questo è il motivo per cui si vede una difficoltà, anche da un punto di vista di firing rate, a livello neurale si spegne dopo le otto ripetizioni, quindi ovviamente bisogna parlare di atleti avanzati che sono allenati per mantenere quel tipo di stimolo e di performance sulle effective reps. Ora, la domanda che viene è, ma queste effective reps sono sempre uguali? No, non sono uguali nel senso che, come detto, hanno un andamento esponenziale, quindi io più sto vicino al cedimento, più la ripetizione è efficace, cioè l'ultima ripetizione di quella cedimento è straordinariamente più efficace rispetto alla penultima, che è ancora più efficace rispetto alla terz'ultima, eccetera, eccetera. E questo è stato visto in una meta-analisi molto molto recente del 2023, che in questo momento sta ancora in peer review, però sostanzialmente fa vedere quello che abbiamo visto in realtà in tutti gli studi, ma che è stato interpretato in maniera differente, con delle ipotesi molto differenti, che erano però applicate al resistance training, non al bodybuilding. Nel momento in cui i dati che abbiamo, dalle evidenze scientifiche li riappliciamo nel bodybuilding, vediamo quello che abbiamo visto, che l'andamento delle effective reps è esponenziale, e l'andamento della fatica, viceversa, è tendenzialmente lineare, nel senso, quello è un altro discorso molto molto più complicato, perché la fatica è variopinta, quindi magari ne parleremo meglio in un altro video. Quindi il senso di utilizzare il respost è proprio quello, iniziare a lavorare in maniera chirurgica per avere delle effective reps. Poi, come detto, posso fare mille schemi differenti, e anche l'anno negli schemi posso decidere se fare tutto a cedimento, oppure tenere un failure point soltanto alla fine, magari per accumulare tonnellaggio. Perché? Perché magari utilizzando un carico, il carico è molto importante, io so che se porto a cedimento l'impatto neurale è troppo forte, e da un punto di vista neurale non riesco a gestirlo. Allora, che cosa faccio? Faccio per esempio uno schema, un 4x4, con cedimento soltanto alla fine, utilizzando un 8x10RM che è pesante, però sono sicuro che il primo cluster da 4 avrò tante effective reps, magari un paio, nel secondo cluster ce l'ho 3, nel terzo cluster ce l'ho tutte e quattro, sono tutte effective reps, e nel quarto cluster di nuovo sono tutte effective reps, però molto più stimolanti perché tocco effettivamente il cedimento. Che cosa vuol dire? Che di 16 ripetizioni che ho fatto, non solo ho utilizzato un carico più importante, ma sto lavorando e sono veramente quasi tutte effective reps, mentre se avessi fatto una serie da 16, avrei utilizzato non solo un carico più basso, ma avrei fatto molti meno effective reps. Allo stesso tempo, se avessi utilizzato lo stesso carico, non sarebbero uscite 16 ripetizioni totali, ne sarebbero uscite molto meno, e nel rapporto di stimolo fatica avrei avuto, sì, meno fatica magari, però anche molto meno stimolo, quindi il rapporto sarebbe peggiorativo. Quindi vai inizio con un 8x10RM, l'atleta mi lavora su quel carico, lo solidifica, e poi ti dico, sai che c'è adesso questa serie, te la faccio diventare un 4x4, per dire, con 20 secondi di recupero. Ok, una volta che hai riuscito a completare lo schema, i 20 secondi diventano 18 secondi, poi diventano 17, poi diventano 16, e faccio una progressione in questo senso, oppure aumento il carico. Dipende dove voglio andare, se l'atleta ha già un carico importante, non mi conviene spingere troppo sul carico, e mi conviene cercare di forzare quella che è la densità di allenamento, e quindi i sistemi di resistenza tp, che è sempre un miglioramento di performance, che porta poi ad un adattamento ipertrofico. Quindi ci sono mille possibili cose che posso realmente fare, e mi devo basare sempre sui feedback del soggetto. Perché ricordate sempre che tutte le scelte sono in astratto giuste o sbagliate, sono giuste o sbagliate o in concreto soltanto nel momento in cui le contestualizzo. Quindi imparate a usare tutte le carte e avrete la carta giusta per il momento giusto. Ragazzi, grazie a tutto per aver visto il video fino a qua, qua sotto i commenti sarò super liato di rispondere, ricordatevi di seguire questo canale, ricordatevi di seguirmi su Instagram ludovico.lem, non perdetevi niente perché metto tantissimi reel, tantissimi video, e ci vediamo al prossimo video.